Ed è molto sintomatico, la prima immagine che noi offriamo ai molti telespettatori vede insieme l'amministratore delegato dello stabilimento termale del Cesius accanto alla figura medica del direttore sanitario, perché abbiamo detto terme per tutti, ma sempre più all'insegna dell'abbraccio tra il termalismo e la medicina, la salute e la cura. Allora intanto chiediamo a Osvaldo Stoccher, cambia il popolo delle terme ed è sempre più ampia la fascia dei 30-40 anni, questo che cosa sta a dirci? Sta a dirci che hanno bisogno e la volontà di curarsi e di venire in stabilimenti termali per rilassarsi dallo stress della vita e di tutti i giorni, perché è gente che è impegnata sul lavoro e che ha bisogno. Però questo fa sì che voi dobbiate portarvi sempre di più sul versante della cura, della medicina, no? Della medicina appunto perché non è abbastanza un bagno caldo o un idromassaggio, quindi vogliono avere anche l'assistenza del medico o dei medici, perché noi disponiamo di tre medici, perché il tempo purtroppo questi 30-40 anni ne hanno sempre poco, quindi quando vengono fanno una full immersion. Relax su misura anche a livello di tasche, signor Stoccher? Beh, è molto importante, specialmente negli ultimi due anni diciamo le tasche sono diventate molto sensibili, come tutti sappiamo, quindi bisogna stare dentro in un range che è accessibile insomma per molti, non solo per l'elite. E' chiaro, voi siete molto attenti e poi noi lo documenteremo anche a tutto l'aspetto del fitness, del beauty, no? Per arrivare anche all'alimentazione. All'alimentazione, giustamente come dice lei insomma, quindi abbiamo anche varie linee di cucina e quindi uno può fare la dieta, dieta personalizzata, timagrante, disintossicante e anche la dieta diciamo ayurvedica, che è un'unicità che noi abbiamo in questa zona qua. Abbiamo anche la cucina ayurvedica, ecco. Non c'è dubbio, l'incremento nella filiera della salute per tornare da dove siamo partiti vi obbliga a ridisegnare un poco anche la formazione e i profili professionali di chi opera all'interno della vostra azienda, della vostra struttura? Ha già detto siamo affiancati da addirittura tre figure di medici, ma attorno a queste figure? Beh, attorno a queste figure ci sono gli operatori, gli operatori che si tratta dei massaggi, di trattamenti ma anche, come abbiamo detto prima, molto importante anche la cucina, quindi come vengono preparati i cibi con molta grande attenzione alla materia prima. Il dottor Fagionato ha in mano un'attestazione che proprio stamattina è arrivata e che se il signor Stoccher permette, buco un poco il suo pudore e lo faccio io, dice che cosa? Che il Ministero della Salute, lo facciamo dire al signor Stoccher? Il Ministero della Salute abbiamo già ottenuto, ma è una riconferma che ogni due o tre anni è necessario ottenere, quindi diciamo la riconferma delle terme della balnio, fangoterapia anche per le malattie dermatologiche e di questo siamo molto orgogliosi. Molto bene. Grazie dottore. Grazie.